in un parco, quindi io lavoro in un parco e questa canzone tra l'altro fa parte di un cd anche che sta in questo libro altra cosa particolare che si chiama Parlare con gli alberi che racconta tutte le esperienze di educazione ambientale che abbiamo fatto noi al Parco dei Monti Lucreti dal 2001 e una volta scrivemmo una canzone, io e un mio amico guardia parco, Roberto Pietrosanti che oggi era qui con la direttrice del mio parco scrivemmo una canzone che si chiamava Ricicla, proprio sui rifiuti, una cosa molto allegra per i bambini però mi pareva che ci mancava qualcosa e allora scrissi un finale che sta nel cd un finale proprio che ascolterei da adesso e che dedico alla riserva e ai randari che hanno bruciato i mezzi allora, non sono d'accordo! grazie a tutti! 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 Si sono stati tranquilli C'è il termo valorizzatore Guarda più sino dopo di ancora Proprio dal vecchio cenevo Gli scarichi dappertutto Pur nei martini vogliono fare Vogliono raccogliere differenziato Siamo rifiuti E riciclare! Ehi! 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 Y! Ehi! 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 Adesso per finire ci divertiamo con una filastrocca.